al pinto di fronte due squadre in gran forma lanciatissima la casertana che ha vinto le ultime cinque partite tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque invece per il crotone di zauli che rilancia gomez e tuminello come coppia d'attacco cangelosi deve fare a meno di curcio acciaccato e celiento il capitano squalificato a loro posto giocano cadili e taurino alla sua prima da titolare in stagione si presenta così alla partita controllo con dribbling incorporato e assist perfetto per adriano montalto quinto gol in campionato il quarto nelle ultime quattro partite per il taglia gole che va a esultare va a prendersi l'abbraccio della sua gente e quello dei suoi compagni al diciassettesimo vola ancora la casertana rivediamo nel replay la grande azione di taurino che prepara per il fiuto del gol di adriano montalto secondo gol in carriera contro il crotone l'altro l'aveva segnato da centrocampo con la maglia della regina in serie b produce poco il crotone nel primo tempo qui la chance nasce dal cross di petriccione lo stacco di gomez che indirizza verso il primo palo e attento venturi a rispondere a mettere in calcio d'angolo dal corner seguente disegna la parabola sul secondo palo petriccione mischia flipper e la palla carambola sui piedi di papini il calcio addosso praticamente cadili la palla finisce sopra la traversa nel secondo tempo la prima occasione per giron che è entrato al posto di bove infortunato alla mezz'ora qui botta che si stampa sulla traversa poi secondo frascaro l'arbitro di questa partita rimbalza fuori dalla linea e quindi poi tuminello non riesce col tap in a pareggiare per il crotone chance per il raddoppio della casertana con questo destro aperto di proietti dal limite tanta potenza non abbastanza precisione palla alta anche se di poco sopra la traversa entrato anche dursi nel secondo tempo nel crotone destro da lontano che non preoccupa più di tanto venturi è uscito taurino nella casertana al suo posto è entrato turchetta che qui fa tandem con calapai sulla destra la rifinitura è di casoli turchetta due tocchi e poi fa partire il destro voladini ma non serve palla che finisce larga ma non di molto al sessantaseiesimo l'episodio che riporta in partita il crotone direttamente dalla rimessa laterale di giron per tuminello messo giù da cadili calcio di rigore e secondo giallo per il difensore della casertana che qui perde il corpo a corpo con il centravanti del crotone calcio di rigore quindi per la formazione di zauli sul dischetto si presenta guido gomez che apre il piattone intuisce venturi ma la trasformazione del bomber italo argentino è perfetta uno a uno sesto gol in campionato per guido gomez il primo lontano dall'uscita e festeggiamento per accogliere il secondo genito in arrivo trasformazione perfetta con venturi che intuisce ma non ci può arrivare e quindi manca un quarto di partita al termine con il crotone che prova a ribaltarla approfittando della superiorità numerica da destra il cross di petricione tuminello interviene ma si alza la bandierina dell'assistente di frascaro il fischio arriva prima del gol di tuminello quindi si rimane sul risultato di parità spinge molto sulla corsia di sinistra il crotone che nel finale si costruisce quest'ultima occasione al 94esimo e bravissimo venturi a salvare il risultato per i suoi si ferma la sequenza di vittorie consecutive per la casertana che comunque non perde da un mese fallisce il sorpasso in classifica il crotone che raggiunge in latina a quota 22